Questo sabato 27 febbraio torna una manifestazione importante per il comune di Follo, l'olio nuovo di Casa Mia. Di che manifestazione si tratta per chi ancora non la conoscesse e perché è così importante? Questa manifestazione che è giunta alla quinta edizione è rivolta a tutti i coltivatori che hanno le olive, le raccolgono e fanno l'olio extravergine d'oliva, basta che appunto portano dei campioni in comune e questi poi verranno esaminati, stanno ora, li stanno esaminando il panele di Sarzana e quindi poi verranno premiati i migliori oli extravergine d'oliva. Sono previste due sezioni, uno per il comune di Follo e l'altro per tutta la provincia perché la novità appunto di questo concorso è che dal 2014 è stata estesa tutta la provincia di Spezia quindi verranno premiati, ripeto, sia gli oli della provincia, i migliori oli della provincia che i migliori oli del comune di Follo, i primi tre. C'è molto interesse, molta partecipazione, cresce di anno in anno questo concorso quindi diciamo l'amministrazione, siamo soddisfatti per come stanno andando le cose. Dei numeri da record rispetto anche alle edizioni precedenti perché ci sono circa 61 partecipanti a questo concorso con prospettive buone anche dal punto di vista della qualità dell'olio rispetto alle annate passate. Sì, rispetto al 2014 perché lo scorso anno non l'avamo sospeso perché non era stata una buona annata come sappiamo tutti quest'anno ci sono 61 partecipanti di cui 30 di Follo e 31 della provincia non so, dico Porto Venere, dico Amelia, Orto Nuovo, ora quelli che mi vengono in mente. Due anni fa erano solo 39 per cui noi siamo sicuramente molto molto soddisfatti. Ecco, l'appuntamento è a Pian di Follo nella nuova struttura coperta una struttura che poi è diventata anche un centro nevralgico per quel che riguarda la cultura agricola anche grazie al mercatino del contadino, dei prodotti biologici a chilometro zero. Diciamo che il mercato è nella nuova struttura che abbiamo costruito mentre invece domani saremo sabato, saremo al caldo nella struttura esistente quindi con riscaldata, lo dico perché insomma... Quindi sì, sicuramente il mercato del contadino è stata un'ottima iniziativa che proseguirà sicuramente. Grazie. Grazie. Grazie.